I cambiamenti climatici richiedono una produzione ed un uso intelligente dell'energia. Sono necessarie nuove tecnologie che possono aumentare in modo sostenibile l'efficienza energetica. La rete elettrica futura ed intelligente si chiama Smart Grid. Trasporta corrente elettrica e al contempo anche dati, in senso bidirezionale, tra produttore e consumatore. GVF incentiva l'uso sostenibile di energia. Offriamo soluzioni innovative di Smart Metering basate su una misurazione di alta precisione grazie ai nostri contatori GVF muniti della tecnologia brevettata GVF Coder. La comunicazione dei dati può essere personalizzata e ampliata in modo flessibile per una lettura mobile in modo drive-by con lettura via radiofrequenza o per un sistema di fixed net tramite Ethernet, fibra ottica o powerline. I sistemi GVF sono modulari, con possibilità di migrazione e implementazione. Combiniamo strumenti di misura di alta precisione, dotati della tecnologia GVF Coder, che sviluppiamo e applichiamo ovunque, alla tecnica moderna e affidabile ICT. In questo modo nascono soluzioni intelligenti di Smart Metering, volte all'uso efficiente e sostenibile dell'energia. Il supporto della GVF per lo Smart Metering include una consulenza personalizzata e flessibile, implementazione e realizzazione di una misurazione efficace, assistenza permanente e corsi di formazione. Siamo un'innovativa azienda familiare svizzera, con oltre 100 anni di successo. Da affermati produttori di strumenti di misura, siamo evoluti ad essere partner competenti di sistemi di misura e di gestione dei dati dei contatori, con oltre 130 dipendenti. Saremo lieti di sostenervi con il nostro ampio know-how. GVF Suisse. Smart. Simple.